Mamma in piazza per la libertà di dissenso, siete qui a sostegno dei ragazzi, ma siete anche qui per solvegliare la loro incolumità? Siamo qui per solvegliare la loro incolumità, siamo qui a sostegno dei ragazzi perché siamo a sostegno di tutto il dissenso che viene assolutamente represso nel nostro paese, non c'è spazio per nessun tipo di risenso. Adesso questo caso di Torino ha avuto un eco veramente eclatante, siamo molto felici di questo, ma siamo qui per sorvegliare anche che tutto sorvegliare si fa per dire, ma per avere uno sguardo d'adulto su quello che sta succedendo nelle nostre forze dell'ordine. Avete mandato una lettera aperta al sindaco, al questore, al prefetto e al procuratore, avete avuto risposta? Al momento non abbiamo avuto nessuna risposta, ma confidiamo con fiducia di avere qualche risposta, anche sulle iniziative che dovrebbero prendere le forze dell'ordine, sul numero identificativo sui caschi, sul come comportarsi, come gestire il dissenso. Ripeto, ce n'è tanto di dissenso in Italia, come gestire il dissenso nelle piazze. Grazie. Prego. Grazie.